Luigi Malabrocca, è una storia che ho scoperto, di cui ho comprato i diritti di un libro, di cui ho provato a scrivere un soggetto, una storia su cui ho lavorato, perché è una storia di una potenza. Racconta il nostro paese, racconta chi siamo, racconta l'italianità, racconta la nostra intelligenza, la nostra furbizia, racconta il nostro paese. È uno che ha iniziato a correre per arrivare ultimo, perché ha scoperto che arrivando ultimo guadagnava di più che arrivando primo, perché nel giro d'Italia dell'immediato dopoguerra avevano istituito la cosiddetta maglia nera, che era una sorta di premio di consolazione, quindi c'era Coppi e Bartali che correvano per arrivare primi, quindi per vincere gare, onore e gloria, e in coda c'erano Carole e Malabrocca che si sfidavano ad arrivare ultimi perché gli davano una cacciotta, una mortadella, lo sponsor locale dava un divano, quindi aveva scoperto che arrivando ultimi portavano a casa più che arrivare primi. Beh, secondo me è illuminante.